ebbene si ragazzi finalmente anche i nerd hanno il loro sito salve a tutti e bentornati sul canale oggi vi rubo qualche minuto per parlarvi di questa cosa appunto i nerd hanno il loro sito creato dai ragazzi di fumetto online che hanno fatto un lavorone hanno fatto qualcosa di incredibile infatti il sito è qualcosa di innovativo qualcosa che non si è mai visto una roba unica la cosa è questa in descrizione trovate il link cliccate vi registrate al sito e scopritelo voi ragazzi scopritelo voi io non vi voglio fare spoiler di nessun tipo che poi non è che da quando è uscito è rimasto così apportiamo sempre nuove migliorie ragazzi ci stanno appresso quotidianamente e ripeto stanno facendo un lavorone hanno fatto un lavorone incredibile quindi registratevi e scoprite voi il sito poi nei commenti vi direte se ho ragione o no se ho esagerato con la descrizione se l'ho pompato troppo oppure se avevo ragione se è veramente un sito nuovo fresco innovativo detto questo ragazzi altra cosa prendo il telefono perché mi sono segnato gli appunti perché se no mi dimentico quindi cosa consiste questo giveaway innanzitutto avete tempo fino al 31 di marzo per partecipare cosa si vince in palio ci sono tre magliette con il logo dei nerd il logo dei nerd ragazzi ovviamente è sempre questo che io trovo fighissimo allora per partecipare è molto semplice basta iscriversi al sito e al gruppo giveaway nerd avete tempo fino al 31 marzo per vincere una delle tre magliette in palio il sito ovviamente è www.inerd.it però ce l'avete in descrizione quindi cliccate registratevi scoprite questo sito meraviglioso e poi ragazzi se volete potete partecipare anche al giveaway avete visto mai che uno dei miei iscritti non possa vincere la maglietta mi sarei felicissimo bene ragazzi dal vostro valerio è davvero tutto vi auguro buona fortuna per questo giveaway e mi raccomando ragazzi il sito è qualcosa di veramente veramente figo scopritelo da voi e poi mi direte nei commenti adesso ragazzi è davvero tutto io vi abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video